The Crew 2 ha soli 1€, ovviamente l'offerta del 98% è termina il 23 di settembre, quindi se ti piacciono giochi di macchine, ti piace gareggiare, fare corse, The Crew 2 è veramente un grandissimo gioco. Sta a 50€, ma con il 98% di sconto a 1€, quindi in questo caso che vi posso dire? Aggiungiamo il gioco al carrello, visualizza il mio carrello, procedi al pagamento. Accettiamo i termini e lo compriamo, al posto di 50€, veramente un bel gioco, libreria, ed eccolo qua. E non ci resta che installarlo. Quindi approfitta di questa offerta del 98% e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!